I primi 90 minuti della sua seconda stagione in Serie B saranno anche gli ultimi in maglia bianco-verde per il balzo in Serie A. Nelle prossime ore Davide Biraschi si legherà al Genoa con un contratto pluriennale. Il difensore romano, classe 94, ha lasciato per un paio di ore il ritiro della Nazionale Under 21 per sostenere le visite mediche di Rito per conto dei grifoni alla Clinica Villa Stewart. Una formalità che vale il passaggio di Biraschi dall'Avellino al Genoa, che dalla capitale tornerà subito a disposizione del CT di Biagio per le gare di qualificazione all'Europeo Under 21, le sfide contro Serbia e Andorra. L'Avellino lancia un nuovo calciatore al piano superiore, ma allo stesso tempo perde una pedina fondamentale per il reparto arretrato con un ruolo che sarà coperto dal nazionale albanese Berat Gimsiti. Classe 93, di proprietà dell'Atalanta, decisivo in nazionale per la storica qualificazione dell'Albania ai gironi dell'ultimo europeo, Gimsiti giungerà in Irpini a titolo temporaneo con un altro difensore in uscita, Angelo Rea lascia Vellino e riabbraccia Messina. Intanto nel corso della prima puntata di 0825 il vicepresidente Bianco Verde Michele Gubitosa alle accuse dei tifosi per un mercato flop risponde chiedendo calma e fiducia. Quando dite fare calcio ci si guadagna i soldi, allora se è vero che si guadagna facendo calcio e che noi non ci mettiamo soldi, fatelo voi, oppure potrebbe farlo chiunque.